Musica Buonasera e bentornati a Carta Bianca. Domenica gli italiani andranno a votare con molti dubbi. Si discute di potenziali ministri, ma nessuno sa davvero quale sarà poi il governo che ci aspetterà dopo il 5 marzo. Questa sera ne parliamo con uno dei protagonisti in campo, il segretario del Partito Democratico. Buonasera Matteo Renzi. Buonasera. Buonasera. Si accomodi pure sul cubo. Allora, si aspettava una campagna elettorale così difficile per il Partito Democratico? Ma non credo tanto per il Partito Democratico. Il PD ha tutte le condizioni per essere domenica il primo partito, il primo gruppo parlamentare. E io penso che questo avverrà, avverrà nell'interesse del PD, naturalmente, ma anche nell'interesse del Paese. Perché siamo l'unica, l'unica, l'unica realtà che è solida, che rifiuta gli estremismi. Ma davvero gli italiani sceglieranno domenica di puntare sugli estremisti, su chi ancora oggi sogna di uscire dall'euro, mette in discussione i vaccini. Chi sono gli estremisti, secondo lei? Da un lato, la destra, a guida Salvini, cioè quella bellissima lettera di quella madre adottiva di due bambini, che ha raccontato come il clima sia cambiato con questa cultura della paura, dello scontro anche verbale, e dall'altro del Movimento 5 Stelle, che è sulle cose, sulla sostanza delle cose... Anche se oggi sa che Grillo ha detto, è finito il tempo, l'epoca del mio VAF, perché adesso non l'ha detto esplicitamente, ma è cominciato invece il tempo, come dire, della costruzione, del dedicarsi alla possibilità che i 5 Stelle possano governare questo Paese. Però aspetti, prima le faccio sentire... Per governare devono avere una maggioranza. Certo, certo. E per avere la maggioranza devono fare l'accordo con la Lega. Però anche voi per governare dovete avere una maggioranza. Le garantisco che noi non faremo accordi con gli estremisti. No, però con qualcuno l'accordo lo dovete fare, perché da solito non ce l'avete. Io dico che quando il Movimento 5 Stelle dice che presenta i propri ministri, io ci sto al confronto e guardiamo quali sono i ministri. Se noi vogliamo discutere dei ministri del 5 Stelle, tipo questa criminologa che loro hanno proposto per l'interno, le dico, Berlinguer, io mi sento più tranquillo con Minniti. Cioè io penso che un italiano debba sapere che chi governa le prefetture non è uno che viene preso come una figurina e presentato come al Grande Fratello o alla Talpa o alla Fattoria, entra in nomination oggi questo. Qui si sta parlando del ministro dell'interno, il capo della polizia. Comunque un'operazione di trasparenza importante per gli italiani, conoscere gli eventuali ministri del Movimento 5 Stelle prima del voto? Sono talmente d'accordo su questa operazione che dico mettete a confronto quelli che hanno nominato loro fantasiosi, perché dovranno poi discuterne con Salvini, e quelli che abbiamo fatto noi. Ma c'è lei già da per certo che ne dovranno discutere con Salvini. Scusi, mi dica con chi, non lo vedo Di Maio con Berlusconi, però parliamo nel merito. Ma lei con chi ne dovrebbe, invece, dei suoi con chi ne dovrebbe discutere. Rispondo alla domanda e poi vengo a parlare dei miei. Ministro dell'interno, io mi fido più di Minniti che di questa criminologa. Ministro dell'economia, mi fido più di Piercarlo Padoa che di un... La criminologa sarebbe Paola Giannettachis. Paola Giannettachis è la criminologa che hanno candidato al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, cioè il Minnale, è uno dei palazzi più importanti di questo paese. È uno dei palazzi in cui è più importante dare solidità, sicurezza. Ecco, lo stiamo vedendo, la lista dell'eventuale governo di Maio. Mi colpisce, invece, un po', non ne entro sugli altri nomi. Quando questa ricercatrice che si chiama Emanuela Del Re e che è candidata agli esteri, vorrei dire che quando ho fatto il Presidente del Consiglio io, il mio Ministro degli Esteri si chiamava Paolo Gentiloni. Non è che si chiamasse Emanuela Del Re. Le dico soltanto una cosa. Poi ci sono alcune vicende che sono un po' paradossali. Ecco, quella però del Salvatore Giuliano, che sarebbe il candidato al Ministero dell'Istruzione, che ho sentito che lei ha detto che è stato un sostenitore della Buona Scuola... No, 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 fermi lì. No, perché adesso Giuliano è intervenuto dicendo che non è vero che lei, che vi siete conosciuti solo due volte e che lui non ha sostenuto in nessun modo la Buona Scuola. Nel senso, mi perdono, il dottor Giuliano è un preside di, mi pare, Brindisi, che ha lavorato come consulente di Stefania Giannini e di Valeria Fedeli alla stesura della Buona Scuola e poi alla verifica dell'azione dei presidi, quelli che chiamavano gli sceriffi e che sceriffi non erano. Quindi è uno degli estensori della Buona Scuola. Io sono contento. Mi dicono dalla... però ora verifichiamo se esce l'agenzia, che lui però in questo invece... Beh, però ci sono... Adesso lo vediamo. Guardi, a me... io sono contento. Se alla fine... Quindi è un bel nome, secondo lei. Se alla fine tutte le riforme che abbiamo fatto noi, il Movimento 5 Stelle le apprezza, in questa... qui c'è scritto il governo, è il fanta governo, non è il governo, ma il fanta governo... Aspetti che la vediamo, questa agenzia di Salvatore Giuliano è uscita adesso, grazie. Vediamo se riesco a dire... Renzi, visto due volte, amicizia è altra cosa. Vabbè, questa è un'altra questione. Amicizia, sono stato presentato quattro ore fa e ho scoperto di essere stato quello che ha scritto La Buona Scuola. Scusi, 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 però Berlinguerre, mi perdono, io vorrei anche raccontare delle le nostre. Scopri, stiamo parlando di un signore che... Lui dice che non l'ha scritta, poi naturalmente io mi attengo a quello che dice lui. La vera letta che devo dire, dottoressa Berlinguerre, stiamo parlando di un signore che è consulente del ministro per scrivere La Buona Scuola, che ha un incarico pagato per lavorare su questi temi, immagino che sia pagato, non so se è gratuito, sarà pagato come tutti i consulenti, dopodiché va bene. No, nel senso che smentisce. Mi fa fare un ragionamento su questo? Mi fa fare un ragionamento su questo? Sì. Se c'è uno che ha fatto La Buona Scuola, o se Di Maio dice bene gli 80 euro, o se il ministro in pectore dell'agricoltura parla bene di Maurizio Martina, io sono contento da uomo che ha lavorato a queste riforme. Domando, ma perché allora tutto l'odio di questi anni? Perché se gli 80 euro non erano così schifosi, o scusi, se La Buona Scuola è talmente buona che scelgono loro... Però il salvatore Giuliano dice di no, dobbiamo come dire. Lei conferma, ma lui dice che non ha collaborato alla stesura della Buona Scuola. Io non lo so assolutamente, mi limito semplicemente all'agenzia. Ci sono i documenti, ci sono i video. La prego, se le dico che c'è a Venaria, provincia di Torino, nel 2015, novembre 2015, un convegno in cui c'è un video in cui Giuliano mi dice, presidente vada avanti, la scuola è con lei. La prego, per favore. Quindi, quindi, scusi, no, no, però andiamo avanti, perché se no ci fermiamo su questo. No, no, ma mi perdoni, perché lei insiste su un punto. No, io no, sono l'agenzia, io non lo so. Ma basta vedere i video. Adesso io pubblicherò il video, se questo è quello che interessa. Ma vorrei fare uno sforzo perché gli italiani potessero scegliere con libertà. Questa campagna elettorale è inquinata dalle false notizie. Se oggi io vengo a dire che a Roma c'era il sole e non ha nevicato in questi giorni, qualcuno mi prende per matto. Eppure si può dire che la buona scuola era un problema e poi scelgo uno che ha lavorato nello staff del ministro della buona scuola. Gli 80 ero non andavano bene e poi confermano. Allora, quello che a me colpisce è perché dobbiamo odiare gli altri, perché devono esserci stati tutti questi insulti. Il PD non odia nessuno. Noi però vogliamo, uno, soldi alle famiglie, due, lavoro, 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 non redditi di cittadinanza, tre, Stati Uniti d'Europa e stare dentro l'euro. Allora, intanto andiamo avanti. Poi vedremo naturalmente che oggi ci sono usciti anche dei dati istati importanti e ne parleremo. Se però il 5 marzo, questa è una domanda obbligata che devo fare perché non si parla d'altro, non ci fosse una maggioranza chiara, come lei peraltro ha già detto, perché nei 5 stelle né voi sareste autosufficienti. Quindi comunque dovreste cercare delle alleanze in Parlamento. Che cosa succederà? Ha ragione Veltroni quando dice, cioè concorda con Veltroni quando dice si cambia la legge elettorale e si torna al voto oppure si cerca invece di costituire un governo attraverso la ricerca di alleanze? Io trovo incredibile che non venga chiesto a chi guida un partito o una comunità che cosa vorrebbe fare per prendere i voti il 4 di marzo. E tutti stiamo a ragionare del 5 marzo. Intendiamoci, è comprensibile. Un po' è la legge elettorale che lo ha responsabilità di questa situazione. Perché se fosse stata approvata la riforma costituzionale, noi il 4 marzo sera avremmo avuto, se fosse stata approvata, avremmo avuto un governo per 5 anni, un leader che aveva la maggioranza dei cittadini. È andata perché se mia nonna aveva le ruote, come si dice, era un credito. Hanno scelto gli italiani, sì, però io qui davanti a lei ho il dovere di dire, vi avevamo messo in guardia sul rischio caos istituzionale, oggi che cosa proponiamo? Proponiamo una cosa molto semplice. A fronte degli estremismi e per evitare che ci sia un governo degli estremisti tra Grillo e la Lega, io penso che o si vota il PD e il PD costituisce la vera forza tranquilla del futuro del Paese, oppure poi il 5 marzo non basteranno le manifestazioni di protesta perché il voto è una volta andato e non si revoca, non è un bonifico dei 5 Stelle. Quando lo dai è quello. Quindi alla sua domanda che succede il 5 marzo, cosa prevede la Costituzione? No, se non c'è una maggioranza, decide il Presidente della Repubblica. Io le dico la mia opinione, io penso che sia fondamentale che il PD sia il primo gruppo parlamentare, se il PD non sarà il primo gruppo parlamentare ascolteremo le proposte degli altri, ma spero, penso e credo che prevalga il buon senso. Esclude categoricamente l'ipotesi per esempio che è stata invece esplicitata dalla Presidente della Regione Puglia Emiliano di poter sostenere un governo di programma guidato ai 5 Stelle? Io escludo categoricamente di fare gli accordi con gli estremisti. Anche perché ci hanno detto fino a ieri che eravamo mafia capitale, petrolieri, corrotti, mi pare impossibile che vogliano fare un governo con noi, così come noi non vogliamo fare un governo con loro se saremo noi i primi. Però il punto centrale è su cosa si fa questa campagna elettorale? Perché arriviamo al paradosso che chi ha fatto le riforme in questi mesi e in questi anni è stato insultato sui social, mi è stata augurata la morte fisica, ci sono le immagini sui social network di persone che vengono insultate o addirittura mostrate da morto e poi fanno le cose che abbiamo proposto noi e poi arrivano a candidare a fare i ministri quelli che hanno votato sì al referendum, è meraviglioso. Se ci pensa questo è meraviglioso. Allora, intanto, visto che molti da Prodi a Napolitano, adesso ieri sera anche lì Enrico Letta, possiamo anche far vedere questo tweet con cui ha dichiarato il voto il 4 marzo, penso a Italia e Europa, voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene. Ecco, ma questo sostegno crescente a Gentiloni, non pensa che sia anche un po' un segno di perplessità nei suoi confronti. Io penso che chi all'interno del centro-sinistra continua a vivere queste elezioni politiche come se fossero delle primarie interne, non ha capito che lunedì mattina rischiamo di svegliarci con una maggioranza in mano agli estremisti. Allora vorrei dare un messaggio a tutti, mancano 72 ore, il PTA, la squadra migliore, pronti a fare il confronto all'americana con chiunque. La squadra migliore come persone, come qualità, ha le idee più forti perché possiamo portare dei risultati e le nostre idee sono talmente buone che gli altri ce le copiano. È libero, è open source, possono prendere quello che vogliono, ma ci stanno copiando le idee. Gli altri che cosa propongono? Propongono, Berlusconi, la flat tax. Lunedì mattina la flat tax non c'è più, è finita, non c'è? E noi abbiamo tra di noi quelli che anziché preoccuparsi di vincere le elezioni continuano a alimentare un congresso. Allora le dico così tagliamo la testa al toro. Io ho uno straordinario rapporto con Paolo Gentiloni. Chiunque sarà incaricato, del PD naturalmente, Gentiloni o altri, dal Presidente della Repubblica, se sarà incaricato uno del PD, avrà il mio sostegno. Chiunque gli sia. Beh, ma nessuno sarà incaricato senza il suo consenso. Ma guardi, questa idea del continuo chiacchiericcio interno al PD, fuori, è da convicterle la gente, sui contenuti. Cari cittadini italiani, noi siamo quelli che in questi anni hanno preso un Paese che stava, diciamo così, nella melma, per non dire del fango, nella polemica, l'abbiamo tirato fuori dal meno 2-3 del PIL e oggi questo è un Paese che va avanti. Noi sappiamo come fare a governare il Paese per i prossimi anni. Quelli che continuano a vivere le discussioni interne e le polemiche interne, li lasciamo fare perché non abbiamo bisogno di divisioni. Gentiloni e io non litigheremo mai. Allora, Emma Bonino che, insomma, sembrerebbe, no, non possiamo dare cifre, anzi, non so qui se possiamo darlo o non possiamo dare, ma comunque sembra che sia andando bene, diciamo, come lista più Europa, ha dichiarato che per abbassare le tasse sul lavoro e sulle imprese nella seconda parte della legislatura, se servisse, si potrebbe anche rimettere l'Imu a, come dire, i proprietari abbienti di prima casa. Lei non la trova condivisibile questa proposta? Assolutamente no. Perché è molto importante abbassare le tasse sul lavoro e sulle imprese. Allora, vediamo di essere chiari. Lei sta parlando con quello che le tasse sul lavoro le ha abbassate. Di più. Lei dice di più. E noi abbiamo creato un milione di nuovi posti di lavoro con una cosa che si chiama Jobs Act. Se mi dà 30 secondi le dico che l'Iras è passato dal 27,5 al 24% e noi vogliamo andare al 22%. Che l'Iras costo del lavoro non si paga più. Quelli seri che conoscono i numeri di questo bilancio del paese sanno che questo voleva dire 21 miliardi di introiti, oggi 13 miliardi. Quindi esclude lei. Si è intervenuti sull'Imu imbullonati, si è intervenuti su tutte le misure legate a Industria 4.0, iferammortamento, superammortamento, sabatini. Questo ha portato il paese a ripartire. Pensare oggi di alzare le tasse in qualsiasi settore è una foria. Oggi chi ha una casa di lusso paga l'Imu e la Tasi. Il 77% di chi pagava l'Imu è persona impiegata, è persona che lavora come dipendente. Basta con questa storia di alzare ancora le tasse. Io sono quello che le ha abbassate. E se vinciamo noi, se vince il PD, se il PD va bene, le tasse continuano a scendere. Bene, allora, vediamo i dati di oggi. Io non capisco questa passione per le tasse che ha qualcuno di voi. Vabbè, ma non è che Emma Bonini è appassionata di tasse. No, no, mi riferivo a lei che dice perché non abbassarle a quelli. No, io le faccio le domande. Io non amo alzare le tasse. Però sembra un po' quella che dice la verità in questa campagna elettorale, che dice davvero le cose come stanno, che dice comunque abbiamo un debito. Non so se è un'opinione o una dichiarazione di voto. Io so che ho abbassato le tasse. Perché ci vuole anche, come dire, insomma... Io so che la verità non sta nelle frasi e negli slogan. Però dimostra anche coraggio in questo. Vede, quando uno può dire in pubblico che ha ottenuto dei risultati, e nessuno può smentire, al punto che gli altri ci copiano le idee, rivendico al Partito Democratico il fatto di essere l'unico partito che le tasse le ha abbassate davvero. Allora, andiamo a vedere. Oggi sono usciti dei dati Istat, che sono, diciamo, alcuni positivi, altri un po' meno positivi, perché comunque cresce il numero di occupati, più 25 mila rispetto a dicembre. I dati diffusi dell'Ista si attesta all'11,1%. Scende il tasso di disoccupazione giovanile, che si attesta intorno al 31,5%. Però c'è un dato, che le devo far notare, è che l'aumento tra i dipendenti è tra i Nato, soprattutto, dei contratti a tempo determinato. Allora, prima le faccio vedere questo servizio di Vincenzo Guerrizio, e poi parliamo di questa questione importante. Per cambiare i mobili di casa ci servono 3.000 euro. Che sia il dentista e il mobilio nuovo un regalo importante, quella di chiedere un piccolo prestito per una grossa spesa può apparire una soluzione a portata di mano. Proviamo subito con una banca che pubblicizza prestiti per queste esigenze. Sì, grazie. Lei è il nostro correntista? No, non sono correntista. Lei dove lavora? Sono partita IVA, lavoro in un'agenzia di pubblicità. Nel caso degli autonomi, che si fa? Che cosa ci dicono? Sì, perché ovviamente lei è stato un nuovo cliente, non ha dato un'altra parte. Nessuno mi conosce. È buono che l'altro non lo conosce, no? Lei ha altri impegni, altre date? Mia moglie stiamo finendo di pagare la macchina. Ma non è neanche grave? No, in questo momento no. Non ha avuto mai niente, paradossalmente è un consenso interrogativo, no? Lei non conosce nessuno? Prego, se non mi conosce. Non mi conto le ragioni. Mi viene in mente no. Che è anche presentato da... Potrebbe essere un'altra delle ipotesi. Senza una conoscenza in banca, senza un lavoro fisso e senza un passato di rate pagate, niente prestito. Dopo la banca proviamo in una società di soli prestiti. Il 3.024 o il 130 al mese? Sei lavoratore dipendente, autonomo? No, io sono autonomo. Ok. In quali casi può essere rifiutato? Non so, lei ha preso prestiti? No. Il fatto che non sono storico in banca dati, diciamo, viene visto in maniera negativa? Il rischio potrebbe essere, proprio perché non ho cose precedenti, che io questi 3.000 euro non riesca ad avermi. Sì, poi lei eventualmente si prende una liberatoria. Ah, quindi io devo anche dare un documento per dire che alla fine non è andata? Perché se no, allora risulta... Perché alla banca di rate rimane la richiesta in corso. In banca niente, in istituto prestiti no, proviamo in una grande finanziaria. Cioè, uno come se la crea una storicità? Anche con l'acquisto di cose un pochino da più per te, in banca, nel senso, un frigorifero, un televisore... Mi faccio il telefonino a rate, prendo quello, allora da quello poi... È un indice che potrebbe aumentare il suo contenitore. Quindi, invece che riuscire a comprare i mobili grazie a un prestito, il risultato è... Niente prestito, la segnalazione per averne fatto richiesta, e l'invito a comprarsi qualcosa a rate per poter un giorno forse avere un prestito. E se fossi un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ultimo tentativo. Lei non è stato nostro cliente? Mai, mai. Quando avrebbe bisogno di questa cifra? Da qui a una settimana. Lei ha una busta paga oppure una partita in? Sì, sì, no, io ho busta paga. La rata più bassa è 91,13, sono tre anni. Richiesta inoltrata correttamente. E già la mattina dopo, la nostra pratica è aperta. Ecco, come si fronteggia questa situazione? Si fronteggia in due modi. Il primo è aumentare il lavoro a tempo indeterminato. Il Jobs Act ha fatto questo, perché del milione di nuovi posti di lavoro, la metà, io speravo di più, ma la metà è a tempo indeterminato. Non a caso sono aumentati i mutui e sono aumentate le spese dei consumatori. Dall'altro però bisogna dare alle partite IVA più diritti. Nel nostro programma c'è una voce di bilancio che costa 1,2 miliardi di euro, 1,2 miliardi di euro, e che riguarda l'estensione dei benefits previsti per i dipendenti alle partite IVA. E dall'altro lato che riguarda l'estensione di tutto il mondo degli assegni familiari a chi è autonomo. Perché? Perché tu devi dare alle partite IVA, agli autonomi, maggiore facilità di lavoro e di... E i soldi per fare tutto questo ce li avete? I soldi per fare tutto questo ce li abbiamo, perché gli ho detti prima che sono 1,2 miliardi di euro, la prima, mentre per la seconda, per quello che riguarda l'assegno universale dei figli, è una misura molto più complessa, che vale un totale di mezzo punto di P. La conclusione però, bene dirlo, è che il Partito Democratico è l'unico partito che presenta una proposta economica uguale e non superiore a quelle delle leggi di bilancio da noi approvate. Cioè... Ce l'ha detto Pado a lunedì. Allora, se l'ha detto Pado a non posso che rituitare di Pier Carlo, che ha fatto... Diciamo, se lo dice Pado è ancora più credibile di me, perché lui ha fama della serietà. Allora, però... Anch'io, naturalmente, però a lui di più. Devo chiedere questo. Non ha ragione il ministro dello sviluppo economico, Calenda, quando dice che in questi anni, anche se le cose, come dire, sono migliorate, è stato un errore spargere ottimismo a piene mani, quando la maggior parte degli italiani vivono ancora invece le difficoltà di una pesante crisi economica. È una discussione che con Carlo Calenda, la facciamo da molto tempo, nel senso che Carlo Calenda è stato vice ministro dello sviluppo economico all'inizio del mio governo, poi, anzi ancora prima, poi è stato ambasciatore a Bruxelles, poi gli ho proposto di fare ministro, il presidente della Repubblica ha accettato, quindi abbiamo un rapporto storico. Io non sono d'accordo con lui su questo punto, nel senso che trovo giusto farsi carico di tanti problemi, e anzi gli mando un abbraccio, un grande in bocca al lupo, perché in queste ore sta incontrando i vertici di Embraco per fare un accordo, speriamo che ce la faccia, e sta chiudendo, speriamo che ce la faccia, sono molto ottimista, l'accordo su Piombino, quindi è un lavoratore, è uno che sta portando a casa le cose. Però penso anche che sia doveroso da parte nostra dare un messaggio di speranza, perché se facciamo soltanto l'elenco delle cose che non vanno, non si va da nessuna parte. Forse è stato un po' esagerato questo messaggio di speranza. Può darsi che qualcuno lo ritenga esagerato e qualcuno troppo morbido, però le dico, tra avere un ministro dello sviluppo economico, uno come Carlo Calenda, che ha fatto crescere il PIL, mica da solo, insieme a tutti gli altri, e avere i nomi improvvisati che sento dall'altra parte, perché il certo destra, mi pare di capire, proponga Brunetta. No, Brunetta per l'economia. Ah, andiamo bene, come dite a Roma. Credo. Andiamo bene, però. Il ministro del 5 Stelle, invece un professore di un'università sudafricana che dice che bisogna contestare il PIL, dice anche che bisogna boicottare Israele, io dico, con Calenda potremmo avere qualche dettaglio di diversità, ma preferisco una, dieci, cento, mille volte Carlo Calenda. Allora, insomma, questa è la grande maledizione del PIL e del centrosinistra. Noi siamo sempre a farci le pulci, ma domenica non è la gara per chi è più simpatico, domenica è in gioco il destino dei prossimi cittadini. Noi siamo gli unici che abbiamo la possibilità per farlo. Questo si è capito, questo si è capito. Ma vorrei rivire. Che lei lo ritiene, diciamo, che si è capito. Come ho capito che lei non lo ritiene? No, io assolutamente. Perché almeno si fa un po' per uno. È giusto. Però le voglio far sentire, invece le voci di altri due esponenti che, diciamo, si candideranno alle elezioni. Vediamoli. Esponenti, partiti. Sono Roberto Fiore, leader della coalizione Italia degli Italiani, che comprende Fiamma Tricolore, Forza Nuova e altri movimenti patriottici. Il nostro è un patto per la patria, per cercare di salvare l'Italia, che è in gravissima difficoltà di fronte alla tragedia dell'immigrazione e alla tragedia anche del crollo demografico. La parola chiave di queste elezioni sarà sovranità, controllo del nostro territorio, controllo della nostra moneta e della nostra economia per dare forza all'Italia e agli italiani. Quindi il 4 marzo vota per l'Italia e gli italiani e manda via questi politici corrotti. Il sistema capitalista è un sistema fallito. Che senso ha? Che vi siano milioni e milioni di disoccupati e poi ogni occupato si vede aumentare l'orario di lavoro e portare la pensione a 70 anni. Il lavoro che c'è si è ripartito fra tutti attraverso una riduzione progressiva dell'orario a parità di paga, in modo che nessuno sia privato del lavoro. Che senso ha che si colpiscano pensioni e sanità per pagare ogni anno 70-80 miliardi di interessi alle banche che hanno investito in titoli di Stato? Si abolisca il debito pubblico verso le banche, si nazionalizzino le banche, si riorganizzi l'economia su basi nuove. E solo un governo dei lavoratori può realizzare questa misura. Senta, segretario, abbiamo tre minuti e mezzo. Ne ho approfittato, mi perdoneranno quelli di Forza Nuova e degli altri se non li ho ascoltati. per twittare sul mio profilo il video Ah, quello di cui ci diceva prima. Del professor di cui si parlava prima, così che almeno la verità dei fatti resta agli altri. Eccoci a dire i minuti. Del ministro della pubblica istruzione dei Cinque, del candidato di Forza Nuova. Il fantaministro. Che l'accoglieva dicendo... Bene, ma lo vedranno sui miei profili social. Senta, invece tre minuti sono pochi, però lei sa che una delle promesse che il centrodestra fa continuamente e in questo anche i Cinque Stelle è quella di reimpatriare 600.000 irregolari. Insomma, situazione complicatissima, tant'è che poi la più grande sanatoria in Italia l'ha fatta il governo Berlusconi tanti anni fa. Ma lei la considera, voi, nei confronti degli irregolari, cioè la considera attendibile una previsione di questo genere? Noi stiamo parlando di una campagna elettorale in cui, mentre io vado lì con l'indice dell'IRES, con gli investimenti da fare sull'IRAP, su tutte le misure fiscali, questi parlano di misure in libertà semplicemente per prendere un voto. Considerano gli italiani delle persone a cui raccontare delle fronte. Allora, guardiamo nell'ordine. Renato Brunetta, spiegando questa proposta in un convegno a Brescia, ha detto che avrebbero rimpatriato, cominciando da 100 persone alla settimana, risparmio tutte le questioni giuridiche o etiche. 100 persone alla settimana, per rimpatriare 600.000 persone, significa impiegarci 111 anni. Ora, io non escludo che tra 111 anni Berlusconi si ripresenti nello studio di Porta a Porta a raccontare il contratto per gli italiani e a dire che lui deve abbassare le tasse. Ma pensano di parlare con delle persone che vivono sulla Luna. La questione di migrazione va affrontata in modo molto serio. Bisogna fare come ha fatto Minniti, che glielo ha raccontato anche qualche giorno fa in una sua trasmissione, e cioè bloccare il traffico degli schiavisti e degli scafisti. Bisogna far sì che chi è in Italia rispetti le regole, bisogna far sì che l'Europa accolga in quota parte i migranti e quelli che non accolgono i migranti non avranno i soldi dell'Italia, perché bisogna anche smettere di essere solidali noi e di non avere la solidarietà di Orban o dei polacchi, cioè degli ungheresi, dei polacchi e degli altri. Dopodiché, se dobbiamo essere sinceri, se c'è un governo che ha regolarizzato 600.000 immigrati, quello è il governo Silvio Berlusconi con una legge che si chiama Bossi-Fini. Bossi-Fini, secondo lei, comunque se voi tornerete a governare questo paese può garantire che la cambierete? La legge sull'immigrazione non funziona e devo dire che la Bossi-Fini è talmente evidente che non funzioni che se ne accorge chiunque affronti il dossier immigrazione. E lo Ius Soli, se tornerete a governare questo paese, lo riprenderete in considerazione? Lo Ius Soli, come lei ha visto, non ha avuto i numeri. Noi pensiamo che si debba recuperare, ma soprattutto che si debba recuperare un clima civile nella discussione. Noi non possiamo dire che un immigrato è colpevole perché è immigrato. Se un immigrato, come è accaduto, da cosa vergognosa e squallida, uccide una ragazza macerata, deve pagare fino all'ultimo giorno. Ma questo vale anche se è un italiano che fa la stessa cosa con una ragazza che si chiama Jessica a Milano. Grazie, grazie al segretario del Partito Democratico Matt Lorenzi per essere stato con noi. Noi ci rivediamo domani, ultimo giorno di campagna elettorale, alle 18.25, sempre qui con Carta Bianca, la linea al TG3.